Quello che chiede la signora di Parma è che le vengano risolti i problemi sotto casa, non è che centinaio attacchi Renzi o migliori attacchi Salvini o le solite cavolate che alla gente non interessa. Io ho fatto una segnalazione dicendo, migliore dice assumeremo 10.000 uomini, benissimo, ho sorriso perché ho pensato stiamo assumendo 10.000 uomini e nel frattempo quei 10.000 uomini vanno a piedi, è fatto questo di ragionamento, a me interessa quello.